Simone Albace, finalista di Bugli e Puppi e Arconte, seconda edizione, complimenti! Grazie mille, grazie al pubblico che ha votato. È vero, il pubblico numerosissimo questa sera lo ha fatto classificare tra i primi tre, a questo punto sei in finale. Cioè, stasera io pensavo tu avessi ormai dato tutto, perché dopo, come se non fosse stato mai amore di Laura Pausini, ma che c'è di più? Che c'è di più? Non lo so, allora, delle riserve. Potrei stupirti in finale, dipende da quanti pezzi si porteranno, non lo so. Eh, te lo faremo sapere. Ah, ho in mente qualcosa. Ho in mente qualcosa? Ok, ok. Se è quello che mi hai detto, meglio non dirlo. Facciamo una cosa alternata, se si può due pezzi, magari facciamo uno un po' più e uno un po'. Ci sorprenderà, ci sorprenderà, ok. Allora, esatto. Non ti chiedo a chi dedichi questa vittoria, perché te lo chiederò qualora vincessi in finale. Ok, allora, risponderò qualora vincessi. Qualora dovessi vincere in finale. Ha ripetizioni di verbi, ma bravissimo a cantare. Grazie mille, Simone, grazie mille. Grazie a voi, grazie a te. Ciao. Una peghiera non c'è per non sentire il vuoto in me Se nascerà ancora il mondo Se salirò dal mondo Io te lo giuro, sai Che cosa la ultima Che cosa sarà di me E la che tu non ci sei Che cosa sarà di me Che cosa sarà di me Io te lo giuro sai E tu, l'aria sempre Così come se io fossi un trasferente E pure fuggire via Scotermi da tutto questo Per il resto è muovire qui Senza parlare Non ci riesco a sancarmi E cancellare Tu, l'aria sempre Quando l'aria sempre E fin Come se io fossi un trasferente E non ci riesco a sancarmi 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 E non ci riesco a sancarmi